Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ha detto riguardo al MES la commissione ha lavorato molto per togliere a questi strumenti le condizionalità che c'erano abbiamo dovuto modificare molte regole attuative adesso all'Italia il MES conviene si tratta di prestiti particolarmente vantaggiosi per paesi che hanno un tasso di interesse alto come l'Italia il recovery fund al momento è un passo avanti verso un obiettivo più limitato ovvero attualmente abbiamo un edificio che ha una moneta unica ma quanto alle politiche di bilancio ci sono solo meccanismi di sorveglianza ora invece ci sono delle risorse economiche a fondo perduto stiamo facendo un passo rilevante ma più limitato rispetto a quello che va verso una federazione ci sono alcuni settori strategici da sostenere imprese che possono crescere come il settore digitale che l'Europa deve incentivare sono cominciate le procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo per i migranti le istanze possono essere presentate fino al 15 luglio il Viminale ricorda le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari italiani e dell'Unione Europea e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo due le opportunità il datore di lavoro italiano o straniero può sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono chiedere una proroga di sei mesi il direttore generale della federazione italiana pubblici esercizi Roberto Calugi in audizione alla camera sul DL rilancio ha avvertito il rischio di disordine sociale cresce giorno dopo giorno è una situazione di enorme difficoltà finanziaria gli imprenditori si sentono abbandonati e in una reale situazione di disperazione spiace sottolineare come i risultati sin cui ottenuti non siano affatti in linea con quanto previsto dal legislatore e siano lontani dall'essere soddisfacenti per le imprese che fanno un'enorme fatica a poterne beneficiare pur comprendendo l'eccezionalità della situazione venutasi a creare noi gli affitti non li pagheremo perché non sappiamo dove prendere i soldi e riempiremo i tribunali di contenziosi Anche i lavoratori intermittenti, quelli con un contratto occasionale i lavoratori incaricati di vendita a domicilio e gli stagionali di settore diversi da turismo e stabilimenti termali potranno chiedere all'Inps il bonus di 600 euro Lo ha sottolineato il ministro del lavoro Nunzia Catalfo Il mio impegno, e quello del governo, è di aiutare chi ha risentito di più delle difficoltà economiche di questo periodo